Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata di Brawl Stars, arriviamo a 300 like, condividete il video e iscrivetevi al canale a 6 nuovi, hashtag Brawl Stars qua sotto nei commenti per ricevere un cuoricino e andiamo avanti perché qui a fianco a me ci sono tutti i dati del nuovo Brawler BB ragazzi abbiamo finalmente la specifica e effettivamente confermato che è epica ragazzi, eccolo qui sopra, io ve l'avevo detto, voi non mi credevate e abbiamo tutti i suoi dati al massimo livello, livello 10, vita 5.880, attacco 1.820, super per colpo 1.400 quindi è molto forte la sua star power è home run BB, i movimenti di BB sono aumentati quando la barra home run che è quella barretta che si carica in più sotto è full charge quindi è carica, quindi vuol dire finché non la utilizzate continuate ad andare più veloci e questo è molto buono specialmente in sopravvivenza oserei dire andiamo a vedere l'attacco base, dice 3 colpi, BB tira uno swing con la sua mazza da baseball e quando ha tutti e tre i colpi carichi quindi non li state utilizzando, parte una barra chiamata home run sotto al personaggio che quando è carica se tirate il prossimo swing, il prossimo colpo, fa knockback quindi manda indietro di colpo tutti i nemici e tira anche un bel colpo sinceramente ottima sicuramente in assedio perché funziona anche contro i robottoni, ottima su roba assalto, ottima in a raffaggiamo per allontanare dalla gemma, quindi veramente molto belli allora andiamo avanti, spitball, abbiamo che BB con la sua super tira una botta con la sua mazza da baseball su una chewing gum quindi una bolla fatta di bubble gum molto carina che praticamente può passare attraverso i nemici e ogni volta che ne colpisce qualcuno fa un danno e può colpire più target la cosa interessante che qui non viene detta è che rimbalza anche sopra i muri quindi se voi la tirate in diagonali quella va sopra, colpisce i target, rimbalza e ne colpisce altri quindi molto interessante e mentre colpisce si ricarica quindi è capace pure che ne ritirate due se prendete un bel gruppo di persone in sopravvivenza nelle mappe con tante muretti se fate bene i rimbalzi può essere veramente micidiale questo è un personaggio che molti dicono che è rotto ma veramente è tanto rotto e sembra essere come ho detto molto utilizzabile bene in assedio appunto contro i robottoni e non solo, anche il robo assalto o anche in a raffagemme in sopravvivenza bisogna ben vedere però finché non si attacca effettivamente la velocità è aumentata quindi è comodo scappare anche dagli altri allora ragazzi questa era BB, era un video molto veloce esclusivamente per farvi vedere i dettagli quella è la bolla della sua super che è molto simpatica che rimbalzerà in mezzo a tutti i robottini nel test arriviamo a 300 like, condividere i video, iscrivetevi al canale se non vi lascia l'hashtag brostars qua sotto nei commenti per ricevere un cuicino e ci vediamo nel prossimo video